Inaugurata ieri pomeriggio l'area Sgambamento Cani, Doglandia. L'area è collocata tra Viale Lazio e Viale Campania, in una zona recuperata dal degrado. Sarà aperta tutti i giorni dalle ore 7 alle 20. Il terreno comunale, che è adiacente al fiume Testene, misura circa 800 metri quadrati. Noi ci auguriamo che sia un inizio di un percorso. È chiaro che è il primo segno tangibile di un impegno che abbiamo preso nel tempo con l'assessore Datrienzo, di dare dignità anche ai nostri amici a quattro zampe. Questo è il senso che vogliamo dare di questo appuntamento di oggi. Abbiamo utilizzato quest'area che era veramente poco utilizzata, tra l'altro c'è stata anche una logica di riutilizzo e risanamento dell'area stessa, che era un po' abbandonata. Invece in questo modo diventa utile, quindi per questo motivo verrà sempre pulita, però diventa utile per chi vorrà venire a divertirsi i cani che possono essere anche di diversa taglia. Poi abbiamo anche qui un'area destinata alle cucciolate che troviamo e che temporaneamente possono essere mantenute in attesa in collaborazione dell'associazione di poterle fare adottare. Insomma, quindi è un inizio, ripeto, di questo percorso che ci auguriamo sia virtuoso per il futuro. L'abbiamo predisposta in un punto facilmente raggiungibile della nostra città. Potrà essere utilizzata da tutti coloro che possiedono un cane nel rispetto del regolamento. Siamo orgogliosi. La nostra amministrazione finalmente ha dato un'ennesima dimostrazione di sensibilità e abbiamo dato una risposta importante alle tante famiglie che posseggono un cane e anche alle varie associazioni di animalisti che da anni lavorano sul territorio, prodigandosi a raccogliere questi cani abbandonati e fino ad oggi li hanno dovuti tenere nelle proprie abitazioni, quindi senza aiuto da parte dell'amministrazione. Ecco perché il nostro sindaco ha pensato bene, insieme a tutta l'amministrazione, di provvedere all'acquisto di queste piccole cucciette che serviranno per ospitare temporaneamente delle cucciolate o dei cagnolini randaggi abbandonati. Quest'area che è divisa in due spazi, quindi una per i cani di piccola taglia e l'altro spazio per i cani di grande taglia con dei giochi, quindi oltre ad essere un'area giochi per i nostri cani è anche un'importante area di socializzazione per la nostra città, specialmente dopo questo Covid che ci ha reclusi e ci ha tolto la gioia di vivere insieme. Qui saranno organizzate delle importanti giornate di sensibilizzazione, quindi di affettività, per quanto riguarda l'adozione. Ci saranno anche delle importanti giornate con l'ASL di microcippatura gratuita e noi andiamo a costituire finalmente un'anagrafe canina perché questo randaggismo sul nostro territorio deve essere assolutamente contenuto. Ilaria Procida, cittadina di Agropoli, sempre attiva sul territorio per quanto riguarda i piccoli amici a quattro zante. Quest'oggi si inaugura una realtà per la città di Agropoli, la prima nel Cilento. Insomma, soddisfatta di questa area di sgambamento? Allora, sicuramente è una bella idea che avremmo voluto da tanto. Per carità, sì, va bene, però ci sono... Ho già detto, ho riferito al sindaco, che secondo me delle modifiche vanno apportate, ma gli stessi dottori dell'ASL, insomma, quello parlavamo. Si può fare di più, sarebbe meglio, però già è tanto che ci sia l'opportunità di portare il proprio cane insomma, qui a sgambettare, avere uno spazio dedicato a loro. Poi questi box vedremo come li vogliono gestire, insomma, per i ritrovamenti dei cagnolini. Sicuramente comunque vanno messi in una sicurezza maggiore. Nei momenti in cui si trova un cane, ci sono delle spese da affrontare, come sverminazioni, vaccini, chi paga tutto questo. Noi le abbiamo sempre pagate, quindi se portare un cane qua vuol dire comunque affrontare delle spese è da capire un attimino, perché comunque i cani ritrovati sul territorio, gli animali, sono comunque di proprietà del sindaco per legge. Quindi queste cose comunque vanno ancora appurate su come vogliono gestire questi quattro stalli. Sicuramente è un bene, per carità, ci mancherebbe. Anche per i ragazzi della vostra associazione questo potrebbe essere un diversivo, magari anche per chi possiede un cane, insomma, socializzare in questo spazio con il proprio amico a quattro zampe è importante. Sì, importantissimo, importantissimo, perché loro, proprio la socializzazione è quella che li fa stare meglio, li fa crescere, ma in tutto. Io personalmente ho preso un cagnolino proprio per mio figlio, per farlo stare meglio, insomma. Grazie. 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 Grazie.